Sono Gabriele Franzosi, ho 23 anni e sono un massoterapista e lavoro presso AISO, un centro di fisioterapia riabilitativa. Una delle esperienze di vita più importanti per me è stato vivere la quotidianità da ragazzo sui campi da calcio. Nella mia vita mi piace molto creare gruppo e sintonia sia nell'ambiente sportivo che nell'ambiente lavorativo. Ho scelto Make the Difference perché valorizza molto i giovani, gli adolescenti, li fa crescere ed essendo vissuto in una realtà in alcune scuole di zone non bellissime so benissimo quanto questa cosa possa fare la differenza.